e siamo tornati alla seconda parte di sto gioco qui con me c'è sempre mio cugino guardi prima ancora ho trovato un nome perchè sono io qui lo sto registrando subito dopo come potete vedere sono allo stesso appunto alla stessa parte non ho detto i vostri commenti perchè non so se li farete diciamo che non è che vi dovete inventare un nome, è un nome finito per scherzare tipo lui si chiama Assassin Alex e non lo devo chiamare perchè Assassin Alex? sei solo Axel beh c'è vero che culo era lì la porta non l'avevo vista è tardi stiamo registrando a sera che tardi sono appena le 9 guarda te è coraggioso che infamata mi fa molto forse ti salverà io credo in te io credo in te nel cuore mio voglio giocare guarda te è che tu posti pò che si è installato ah si è installato grazie per aver distribuito la registrazione in modo totalmente inutile ma io ho installato sto gioco dopo dimmi come se se spero sia figo penso sia figo oh porca persona oh lisa ma qui c'è lo sparafliccio vediamo il timing e lo sparafliccio 1 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ok vabbè tu nemmeno dovrei essere adesso tu 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 Devo spiegare che fare, cioè, cioè, reggito di fila di sta merda, è una tortura. Secondo merda! Eh? Devi averlo salvato. Vai! Come mi sono salvato? Vai Jake contro Jake. No! Vada! Questa qui è mafia, anzi, la mafia è anche più gentile. Noi dico, i programmatici diventano di sto gioco. Non avevano una vita sociale. Non avevano una madre che li voleva bene. Mi dice? Analatica. Mi sa com'è successo. Schiero muro di merda! questa sembra mimica un po' di programmazione di sto gioco mi dispiace veramente tanto però sto gioco qui e vabbè è una c***a droga poi non sto neppure cosa mi sto andando a fare i video di sta merda si merda è vero che li c***a la f***a devo ricordare che il c***o della freccia vero vado dopo tipo double jump sto c***o ditemi se sto gioco vi piace perchè come ho evitato il po' non lo so neppure io siiii ho superato sto livello dove dovrò andare ah si è ripreso subito sta merda non deduco che la quella la difficoltà si è da qui in poi si è da qui in poi ah invece no c'è tipo una replica ma che ho volato cioè quello precedente era mille volte più difficile eh che ho volato che ho volato se neppure quale c'è con l'umore tipo ah adesso 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 no non ho possesso l'umore se la posa forse si buono se la posa forse si buono sono diventato matto per il tipo sto facendo tipo cioè se com ho completo ho fatto mezz'ora di gaming di sta merda per non parlare dei boh dieci minuti precedenti quindi beh diciamo calcola tipo boh un'ora di sto gioco di sto gioco di merda ripetuto e poi non voglio farmi sentire più scarso di quello che sono ma poi se tipo un peggy 3 cioè capiamoci se vi sentite tutto più forte compratevelo o vedete c'è ancora su cui si chiama R-E-E-D Red però ma schifo cioè io ho trovato non dovete appena entrati in The Station penetrati in Play Store ecco lì c'era io oggi oggi l'ho provato a se non possiamo oh ti piacerebbe essere chiamato Red no 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 i due di verda aspetta che non è il tempo basso oh ho il tritamento è tutto più dolso sì cosa c'è pregiudita Dove devo andare, dove devo andare Dove devo salire super di qua e probabilmente di là Ok, perfetto, capito dove devo andare Stop it Eh, si può Sì, a te buongiorno Mi c'è buongiorno Di questo video Scute Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seguittemi da nessuna parte, tocca nel mondo, sui social. Vi ringrazio per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bella, ragazzi.